Assaggia i nuovi biscotti Cuor di Merda, prodotti direttamente con i frutti della terra. Cuor di Merda, vengono preparati con puro... Ah, sterco equino. Raccolto ancora fumante. Cuor di Merda, i biscotti, come li faceva la nonna. La vuoi un biscottina? Cuor di Merda, un prodotto sito esaurito. Vieni, vieni che ti dà un biscottina. Che nonna di Merda.